Ci sono state due partite nella partita. La prima quella che fa capo ad un pubblico che più che mai è stato assolutamente impagabile. Ci fossero stati più tagliande a disposizione e sarebbero andati anche il doppio. Una esemplare ed emozionante marea di colore giallorosso che ha dato spettacolo e lezione che ha dato calore ed affetto sportivo incondizionato. E qui, sebbene si sapesse, la vittoria non è mancata. La seconda partita nella partita, quella che non lascia dubbi e che è fotografata da un risultato che non ammette alibi. La lunga sosta, quella di un mese e mezzo se vogliamo, un arbitro di modi inglesi ma per carità lasciamo stare davvero tutto. Il Giulianova in fondo ha perso in casa, se avete capito bene ha subito una sconfitta casalinga perché di questo alla fine si tratta. Come? Beh, fisicamente, tecnicamente, psicologicamente ed agonisticamente. Sebbene abbia avuto due opportunità per rendere il risultato più gestibile ai fini del ritorno, per troppo tempo, nei 90 minuti, sono venute a mancare le forze fisiche per stare in contesa. Il primo tempo, e qui passiamo alla narrazione, viene giocato in modo bloccato senza sussulti di rilievo e forse è per questo che il Giulianova viene ingannato e si fida troppo delle mancate turbulenze della prima frazione di gioco. Una indecisione di bocca nera dopo una decina di minuti che dà un po' di pathos, poi alla mezz'ora tentativi dalla distanza, prima degli ospiti e poi degli emiliani. Poco prima del break l'immarcescibile ed invidiabile Selleri prova a scaldare le polveri con un tiro al lato. La ripresa è un altro film, due abbondanti giri di lancetti e il servizio su Francesco Baglietti, che pure spalle alla porta che si libera con mestiere di mafione e poi mette dentro il suo vantaggio. Il Giulianova ha il merito di reagire con il suo uomo più tecnico, Francesco Di Paolo, che si confeziona il destro, sciupato però addosso a Tartaruga, che gli nega il successo. Il tempo passa e si provano soluzioni dalle panche, ma la sterilità del Giulianova fa il gioco del progresso, che trova il raddoppio quando al settantottesimo Gebre Selassie lavora molto bene un assist delizioso per il destro ad incrocio, che non lascia scampo a bocca nera. La reazione del Giulianova è tutta su un colpo di testa che manda a vuoto il portiere avversario, ma che si spegne oltre la traversa. Ancora Di Paolo nel finale, chiuso da due, è stoppato dal portiere, poi Bana che prende all'esterno della rete, poi al quarto di recupero, moduli e posizioni saltati, Gebre Selassie ancora lui si invola verso bocca nera, Giuseppe Lenoci lo stende, si becca il rosso, il calcio franco, lo schema ed Esenai lasciano sul posto l'estremo giallo-rosso. Ora, testa e cuore al ritorno, mai darsi per vinti prima della sentenza sul campo, Saradora Macerasi, il suo staff e i suoi giocatori hanno il diritto, dovere di provarci, perché questo pubblico, questo popolo è una risorsa rara ed inestimabile. Grazie.